Con l'arrivo dell'autunno arriva anche l'influenza. E mai come quest'anno è importante vaccinarsi. Per le categorie a rischio, per le persone sopra i 60 anni e per i bambini sino ai 6 anni la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e gratuita. Facciamo gioco di squadra! Per proteggere non solo noi stessi ma anche gli altri. Sceglie la vaccinazione antinfluenzale? Vince sempre!